Sì, 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 sì. Questo che Dixon riprende ad attaccare senza tregua, è un calcio basso fantastico, questa bossa lo metterà definitivamente al caffetto, accidenti, special incontro Brian Tiller, e anche questa sera i nostri campioni sono pronti a salire sul ring, ci saranno Buster, Sander, Miller a lottare per aggiudicarsi il titolo del più forte davanti a un pubblico in fibrillazione, preparatevi gente. Ha ridotto bene, eh? Tra poco i nostri guerrieri si scontrano... Ma l'hai visto? Sarai come lui fra un'ora. Davvero, perché aspettate? Calmati. Ma quando toccherà a noi? E di voi, Astox? Sì, sono io. So che a te, preparati. Per te finisce qui, stasera. Finisce? Io direi che comincia. Wow! PS3, eh? Qual è il tuo gioco preferito? Non lo so, Killzone 3, penso. Ti do una mano. Non serve. Posso aiutarvi, se volete. Io sono Kurt, il compagno di stanza di Mike. Ciao, Kurt. John Stokes, il padre di Mike. È un piacere, John. Anche per me. Allora, chi di voi ha fame? Che ne dite se vi porto a pranzo? Penso che disferò i bagagli. Ok. Ci vediamo dopo. Senti, figlio, allora io... Grazie per il passaggio. Questa è la spalla, Jack. Ottimo, Jack. Fumo e saetta, ragazzo. Fumo e saetta. Se tieni bassa a quella spalla, qualsiasi avversario arriverà a colpirti. Già, dillo ai miei ultimi 3K. Senti, ragazzo. Ehi, ascoltate, c'è stato un piccolo cambio di programma, ok? Mi hanno comunicato che Jefferson si è ritirato. Ma non preoccuparti, ho trovato un sostituto. Si chiama Ortega. È diventato da poco un velto. Ha un record di 4 vittorie su 7. Ci deve essere un errore. L'incontro è fra tre settimane. Non sappiamo nulla di questo Ortega. Lui ha un 4 su 7, io 5 su 5. Lo sai che significa, eh? Non ha scampo questo Ortega. Eppure dovresti saperlo. Prova a spiegarglielo tu. Il titolo è già mio. Vagli vedere chi sei, Jack. Conto su di te. Per oggi basta. Tim! Ciao! Ciao ragazzi! Tim! Piano, piano. Ciao mamma. Che succede? Niente. Perché non lasciate stare vostro fratello? Andate di sopra a lavarvi le mani. Avanti, tutti e due. Allora, che programmi hai per stasera? Devo preparare la tesi. Ok. La banca ci ha mandato una terza lettera e ci ha dato solo un altro mese per pagare. Ti stai ammazzando per tenere questa casa da quando papà è morto. Lascia che ti aiuti, lavorerò anche di notte. No! Vai a finire la tua tesi. Ti porterò qualcosa per cena, ok? Avanti! Mi conosci? Mi metterò qualcosa. Vai! Non c'è assolutamente confronto tra il laccio di Wonder Woman e la clava di Thor. Insomma, non ha alcun senso. È come paragonare un pene con una vagina. Ah, devo riattaccare. Ciao, come va? Ciao, ho pensato di farvi vedere qualcosa. Bene. Cosa abbiamo qui? Oh, questi sono dell'86. Belli. Davvero belli. Fantastici, sono tuoi? Sì, ne ho altri 18 così a casa. Ah, figo. Sai una cosa? Il tipo che si occupa degli acquisti, Butler, non è qui oggi, ma se vuoi puoi tornare domani. Sì, certo, va bene. Anzi, potreste guardarli con calma e poi io farò un salto domani. Sì, certo, come preferisci, d'accordo? Ok, grazie. Ehi, ti andrebbe di uscire qualche volta? Non credo che accadrà mai. Ehi, Kurt, guarda qui. Qualcuno l'ha inserito nel server del college. Sta dappertutto. Avanti. Dai, usciamo. No, rimango qui, amico. Ehi. Che c'è? Siamo appena arrivati al college. Che tu lo sappia o no, il tuo corpo è un vulcano di ormoni e di energia sessuale che freme. Che c'è che non va? Avanti, spara. E non ne parliamo più. Ok, ma non devi dirlo a nessuno. Riguarda mio padre. Benvenuto al college, amico. Grazie a tutti.